Carmela Le mani le mani signori miei forse tanti di voi lo sanno non lo dite a me ditelo anche a Francesco il matrimonio è come il melone Uscire bianco e uscire anche rosso A me è uscito il giorno A te è uscito il rosso Posso da me lo porto A me è uscito il giorno Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono tanti, tanti imbocati, rossi, verdi e gianti che dice e così Giocali, giocali, giocali Ho giocato di 1,8,25,6,6,6,6 Gli ho giocati con vinto perché ti usciranno tutti e tre Gli ho giocati con vinto perché usciranno tutti e tre Gli ho giocati con vinto perché usciranno tutti e tre Sì! Grazie! 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 Grazie!